allora buongiorno dall'italiazzurro 4 victor chebec sierra vinco quasi sempre ovviamente quasi che mi frega e niente siamo in attivazione in scozia si non mi ricordo com'è il suffisso della scozia siamo barati g massiva barati g questa brughiera questa landa infinita risalita verso il monte aiona italia lima golf 320 ho già fatto parecchia strada e sto andando avanti a senso dunque dovrebbe essere la che qui non c'è un marca sentiero non c'è niente quindi si va in tutto ma ricordiamoci sempre non siamo in alaska siamo nell'appennino quindi calma per fare questa cagata da youtuber ho messo la telecamera sono andato giù e poi sono tornato su come se non mi avessi abbasti di andare per strada in salita allora siamo sul monte aiona italia lima golf 340 sono le 9 e 25 o signor faccio stazione un quarto d'ora e intanto imparro lo schermo con la pelata a radio questa è l'antenna ci sono piccole variazioni sul tema la realizzazione innanzitutto l'arancione così si vede non avevo il cavo arancione ma ormai le faccio tutte arancioni perché è vero la montagna non è mia però da un minimo d'attenzione guarda se c'è qualcosa no sul sentiero cioè poi vedi uno lì come un cretino che parla e a parte il colore il balloon del centrale che più è un choke poi metto il link e il sistema di fissaggio invece che con gli interruttori con i faston perché il faston permette soprattutto nella banda dei 20 metri se serve un minimo di accordo il cavo è abbastanza rigido non è proprio molliccio quindi se serve accorciare leggermente l'antenna per migliorare l'accordo si ripiega e resta lì ho visto che funziona facciamo stazione poi facciamo lo sport del collega italia chilo 3 golf italia bravo qsl cq sota cq sota cq sota italia zulu 4 victor kebexier portatile qrp italia zulu 4 victor kebexier portatile qrp cq sota oh buongiorno italia zulu 5 giuliette lima foxtrot è un piacere 59 qsl perfetto italia zelanda 4 hotel zulu alfa 59 qsl perfetto italia uniform 6 oscar lima mike 59 qsl giuliette tango sierra avanti perfetto mike che bec novembre mike che bec novembre avanti grazie buongiorno italia zulu 0 alfa radio lima 59 qsl italia chilo 1 messico ontario papa 59 perfetto italia zulu 5 hotel novembre italia 59 grazie buona domenica buona attività delta francia ontario delta francia ontario avanti perfetto il z8 delta francia oscar 59 qsl tango novembre america questo lo conosco roger e italia zelanda 1 tango novembre alfa la tua antenna funziona qsl ciao in settimana la spedisco e se riesco lunedì al più tardi martedì grazie ancora ciao buona domenica grazie italia 2 charlie zulu quebec qsl bravo vittoria bravo vittoria avanti oh qsl tango 77 bravo vittoria è un piacere 59 qsl ciao 73 buona giornata mi ha fatto molto piacere da san marino grazie ancora ciao 9 ancona 1 ancona ancona 59 qsl italia zulu 5 mike juliet oscar perfetto italia zulu 5 mike juliet oscar qsl italia quebec 1 charlie quebec portatile molto bene anche la sezione qsl alice roma roger roger e pauri ducor chinahana canada florida 5-5 QSL Oscar November 4 Charlie Bravo Oscar November 4 Charlie Bravo Roger Roger Oscar November 4 Charlie Bravo 5-9 QSL Hotel Bravo 9 Eco Florida Juliet perfetto Hotel Bravo 9 Eco Florida Juliet fortissimo QSL sì perfetto Alessandro buongiorno 6-5-5-7 grazie per la sosta buona venica allora Italia Whiskey numero 2 Hotel November mi manca l'ultima lettera buongiorno India Unifor 4 Foxtrot Lima Papa Barra 4 casa in campagna in Valsecchia non portatile 5-7-5-8 non so se è del QRM non so cosa fa il QRM e cosa fa di segnale il TUM molto chiara la modulazione e comprensibile ho copiato Lima Golf 3-4-0 la referenza giusto? la giornata sta avvolgendo al brutto quindi saranno gli ultimi QSL non ho mica tanta voglia di bagnarmi a te il cambio comprensibile 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 ti lascio agli ultimi che saranno qui sotto a cercare di collegarti buon divertimento buona difesa ciao ciao allora Italia chilo 2 november bravo whisky QSL Z1 alfa november chilo 5-9 5-9 anche per te ottimo segnale 5-9 pieno complimenti ciao India Quebec 5 Mike Sierra India Quebec 5 Mike Sierra avanti un'altra sezione prego buongiorno Alessandro 5-9 5-9 anche per la sezione ciao Claudio ciao Claudio l'umidità che c'è quassù farebbe molto bene alla tua età HI quanto dure ancora per gli spot guarda alle 10.30 interrompo perché incomincia a scappare anche qualche goccia e ho 5 km da fare a piedi e poi sono su due ruote evviva roger roger sierra 5-7 india lima foxtrot qsl Italy november 3 alfa delta florida qsl si come stelle buongiorno albito 8 5-8 molto bene qua in ortezza l'altra Charlie Papachilo eh Charlie Papachilo avanti l'ultima Italia 1-5 Charlie Papachilo oh è mai l'ultima U2 Papo Telbravo allora Italia Whisky 2 Papo Telbravo QSL Italia Università 2 U2 PHB buongiorno 5-9 a Milano complimenti Roger Italia Uniform 2 Papo Telbravo 5-9 anche per te grazie Oscar Eco 6 Romeo Charlie Delta Oscar Eco 6 Romeo Charlie Delta QSL Good morning New 5-7 57 QSL Italia november 3 allora Italia november 3 avanti Roger Italia november 3 xilofono Udine Genova 5-9 QSL hotel bravo 9 hotel bravo 9 messico kilowatt e vittoria 5-9 QSL Italia Whisky 0 bravo Charlie Foxtrot 5-9 5-9 Italia Zerlanda 0 Italia Japan Canada Italia Zerlanda 0 Italia Japan Canada 6-57 ma un mare di flageri grazie buongiorno sierra 5-7 over sierra 5-7 delta sierra 5-7 delta 5-9 QSL over over india zulu 8 papa whisky november QSL 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 e città l'invernia Italia uniform 1 delta oscar port alessandro allora Italia uniform 1 delta oscar poxtrot QSL QSL Alessandro sentivo che eri in chiusura speravo di collegarti qui operatore Mario da Borgo San Dalmatto la referenza la coppia direttamente dalla tua voce vi si è portato buona attivazione ciao ciao 73 la referenza Italia Lima Golf 340 Monte Iona signori vi saluto 73 buona domenica a tutti cazzo piove cazzo